Amara scoperta di un abitante del quartiere di Fano 2 durante la quotidiana passeggiata serale in compagnia del suo fido amico cane per i viali e gli spazi verdi del quartiere. Proprio la necessità del suo amico a quattro zampe di espletare i suoi bisogni corporari che lo hanno portato nelle vicinanze di un'area verde, proprio al centro del quartiere, a pochi passi dai portoni dei palazzi e a qualche decina di metri da quell'area verde che già vi abbiamo mostrato in un nostro precedente servizio che necessiterebbe quanto prima di un intervento sulle strutture danneggiate o faticenti. Niente, qualcuno mi diceva le tolte, io i riserano, però stamattina, di prima mattina, appena ho portato il cane giù, il primo pensiero è stato quello. Perché sono pericolose lì così? Sì, perché poi erano anche senza il tappo, c'era l'ago e stamattina le ho raccolte, le ho avvolte in una carta, le ho buttate. È una cosa che si verifica spesso? Questa è la prima volta che noto le siringhe. Il senso civico di questo cittadino ha messo in sicurezza l'area del quartiere, ma se non fosse stato così, se non se ne fosse accorto, se prima di lui fossero arrivati bambini o altre persone, facile immaginare le brutte conseguenze. Come anche nel caso del lungo canale di qualche giorno fa, questi pericoli sono a pochi passi dalle nostre abitazioni. Ed il degrado o il consumo di stupefacenti, una volta relegato ad aree distanti e poco trafficate, ora invece si materializza a pochi metri dalle nostre abitazioni, con tutti i rischi e i pericoli del caso. Grazie a tutti.